A Proda in Abruzzo, Meritocrazia Italia, siamo con il Presidente, colui che l'ha fondata un paio di anni fa, è un movimento che è cresciuto tantissimo, in due anni ha raccolto ben oltre 7.000 soci. Presidente, Avvocato Walter Moriello, insomma un momento importante qui in Abruzzo dove veramente c'è stato il riscontro per quanto riguarda questa realtà. Ma chi è Meritocrazia Italia? Meritocrazia Italia comprende tutta la popolazione che è X, tutta quella popolazione che si sente trascurata, che pensa che in Italia non ci possa essere una reazione, che pensa che in Italia si va avanti esclusivamente per raccomandazione, per nepotismo. Meritocrazia è la reazione delle X, ma è una reazione umile, garbata, una reazione molto mirata, concreta e non attacca nessuno. Questo è proprio il DNA di Meritocrazia. Non troverete sulle nostre pagine, molto molto seguite, mai un attacco personale a nessuno, perché riteniamo che questa cattiveria, questo odio che si sta sviluppando tra fazioni, tra le stesse fazioni non porti alcun tipo di vantaggio alla comunità. Noi dobbiamo interpretare la cittadinanza attiva ma nel senso migliore. Dobbiamo proporre, dobbiamo aspettare e dare a chi governa la possibilità di metabolizzare quello che noi proponiamo e se ritengono che sia fondato anche di attuarlo. Un suo commento sull'attuale situazione politica in Italia? Non molto chiara dal punto di vista organizzativo. Spero vivamente che non si creino fazioni all'interno dei gruppi che fanno parte delle coalizioni perché l'Italia ha bisogno di stabilità. Cioè tutto ciò che stiamo costruendo, anche ricostruendo, come credibilità internazionale deve avere come specchio una credibilità nazionale. Io penso che la vittoria dell'Italia agli europei possa essere quel momento di unificazione sotto la bandiera e forse anche con l'aiuto di Meritocrazia Italia possiamo raggiungere un'Italia anche più serena, più competitiva e soprattutto più coesa perché questo è l'aspetto più importante. Ecco, Meritocrazia Italia c'è chi l'ha definita una valigia piena di esperienze in giro per l'Italia. Bellissima come dichiarazione, sì. È una valigia fatta da persone comuni perché è libera, autonoma. Sui nostri canali www.meritocrazia.eu o l'Italia che merita sui social potete trovare tutto ciò che una X dice e che non è chiusa in una stanza, non pensa che la reazione da sola sia ininfluente. Ha trovato un gruppo importante che amplifica come megafono il proprio disagio e la propria iniziativa. Considerate che abbiamo tantissimi dipartimenti divisi in ministeri e curiamo molto anche l'età matura e la disabilità perché il mondo è uguale, il mondo non ha colori, il mondo soprattutto non conosce chi soffre e chi non soffre. Dobbiamo uscire anche da questo schema, non c'è una sola persona, una sola famiglia che non soffre e quindi se ragioniamo in questo senso sappiamo che quando incontriamo qualcuno la mattina abbiamo incontrato non qualche problema ma qualcuno che ha dei problemi e quindi se si capisce questo si riesce anche a relazionarsi meglio. I valori importanti di questo movimento sono la meritocrazia e l'equità sociale. Assolutamente, meritocrazia declinata non come le eccellenze vanno avanti, meritocrazia significa che ognuno nella vita deve fare ciò per cui si è formato, è diventato competente perché è strana l'Italia, l'Italia è realmente strana, dà la possibilità di specializzarsi, di studiare, di formarsi, di fare specializzazioni dopo che si è formato e abilitato. Però quando si va a ricoprire un posto di potere lì non c'entra la competenza, si mette soltanto per un apparentamento politico e una esigenza politica, non pensando che in quel momento si gestisce la cosa pubblica, cioè di tutti quanti noi. Basta fare una piccola architettura differente, mettere le persone giuste al posto giusto e vediamo che pacificamente le cose possono risolversi. Ecco, c'è stata una grande adesione appunto in questi anni a questo modello che è meritocrazia Italia perché naturalmente in tanti sposano questo tipo di discorso e questi valori. C'è stata anche molta adesione da parte dei giovani, proprio dall'Abruzzo, da Francavilla, dai vertici locali, sono partiti degli input proprio per attirare l'attenzione dei giovani che sono così disaffezionati alla politica. Noi facciamo questo, li facciamo sentire parte integrante di un progetto, non solo da mettere come orpello in una convention per dire ci sono i giovani. Con noi fanno un percorso, fanno le interviste, si fanno intervistare, crescono. Crescono perché in meritocrazia, essendo un movimento culturale post-ideologico, c'è di tutto e bisogna sapere interfacciarsi con tutti, bisogna soprattutto arrivare a una sintesi tra sensibilità diverse. Noi siamo persone, non siamo robot. Ognuno di noi viene da un'esperienza personale, una religiosa, familiare, culturale. Quindi metterci insieme e lavorare, elaborare e far uscire un contenuto unico è la vera rivoluzione e si può fare, è più facile di quanto si possa immaginare. Presidente, poi c'è il CREA, che è la scuola politica di meritocrazia Italia, che è naturalmente un grande momento di formazione per i soci. Per i soci, per i non soci, molti dei sindaci anche in Abruzzo hanno partecipato ai nostri corsi CREA, sono corsi di approfondimento che pur essendo gestiti da persone di primo livello hanno dei costi bassissimi perché si deve dare la possibilità a tutti di crescere, soprattutto a coloro i quali un domani saranno istituzione, soprattutto chi è istituzione che deve essere più preparato rispetto all'incarico che va a assumere. Perché dietro quell'incarico c'è sofferenza, c'è l'esigenza di persone, c'è l'esigenza di una collettività e quindi io non vado a svolgere un ruolo perché devo camminare per strada stringendo le mani o devo essere famoso. Io devo ricoprire un ruolo consapevole di portare un beneficio alla collettività. Se non ho questa consapevolezza non mi devo fare avanti. Presidente, dall'incontro, da questi due giorni qui a Francavilla al mare, insomma lei ha lanciato una bella notizia che in Abruzzo si terrà il congresso nazionale di meritocrazia Italia. Tra dieci proposte congressuali, dal Piemonte alla Sicilia e alla Sardegna, il Consiglio di Presidenza ha determinato questa scelta. Io sono felice perché sto diventando più abruzzese, pur essendo di origine campana, mi piace molto l'Abruzzo perché coniuga il mare con la montagna, la capacità di accogliere ma anche la riservatezza dei luoghi. È proprio il tutto ideale per fare un congresso di alto livello. Quanto è importante insomma avvicinarsi a Meritocrazia Italia, diciamo con la mente e il cuore scevri da tutto ciò che è politica? Sì, è questo. Meritocrazia, mi chiedono sempre nelle interviste i suoi colleghi, se Meritocrazia vuole diventare soggetto politico. E io rispondo sempre allo stesso modo. Se volevamo fare politica avremmo scelto qualcosa già esistente. Noi vogliamo creare cittadinanza attiva, consapevolezza, vogliamo che le persone quando leggono una notizia sappiano decidere al di là di quello che viene imboccato sul momento. Meritocrazia è la scelta dell'autonomia, della libertà, della libertà, perché libertà io la posso citare quando voglio, ma poi la devo anche applicare. E qui invece l'ultimo che arriva può essere il primo della fila, se ha delle proposte intelligenti. Michela De Cicco, coordinatrice regionale di Meritocrazia Italia. Cresce anche in Abruzzo questo movimento, ci sono davvero tante adesioni, naturalmente l'entusiasmo è tanto. E sarà in Abruzzo il congresso nazionale di Meritocrazia Italia, l'ho appena annunciato il Presidente. Insomma, una bella cosa. Siamo molto onorati, sì, in Abruzzo è una delle regioni più strutturate. Siamo 18 regioni, verranno nominati nuovi consiglieri, quindi siamo veramente onorati, perché su tante proposte congressuali è stato scelto l'Abruzzo. È stato scelto anche perché oggi in sede di direzione nazionale questa location ha fatto la sua parte, ma soprattutto l'apertura della sede ieri a San Giovanni Tiatino. È ovvio che un punto di riferimento fisico è fondamentale. Abbiamo lavorato tanto sul web in questo periodo tristemente noto, ma ovviamente accorciamo le distanze, accorciamo spazio e tempo, ma tagliamo fuori anche le tante vittime del digital divide. Quindi è necessario curare la prossimità territoriale, ce l'abbiamo fatta con l'apertura della sede. È un luogo in cui faremo, organizzeremo attività di formazione, anche di informazione, attraverso la scuola politica Crea. L'Abruzzo, sì, è molto ben strutturato. Abbiamo ben otto gruppi di lavoro che si stanno occupando della Via Verde, si stanno occupando della Film Commission, di tante questioni spinose e divisive. Noi lo facciamo con il solito spirito analitico e quindi siamo in fase di raccolta dati. Ed è questa fondamentalmente poi la funzione delle regioni regionali, cioè fungere da osservatorio, quindi braccio operativo del nazionale, costituire le sezioni tematiche all'interno della sezione regionale che colloquiano con i dipartimenti nazionali per restituire poi le soluzioni sul territorio. Ci occupiamo di tante cose, per cui abbiamo istituito tanti gruppi di lavoro. L'appello, se mi posso permettere, è aggregatevi perché è un progetto aggregativo. Quindi noi stiamo cercando intanto istanze dal territorio, quindi esperienze da condividere, le istanze soprattutto dai cittadini. Abbiamo fatto un bel giro tra i borghi d'Abruzzo, abbiamo visitato più di 50 comunità, parlo di comunità e non solo di sindaci, per raccogliere poi quali sono i punti di debolezza e i punti di forza, perché siamo convinti che una vera proposta non possa prescindere dall'analisi e l'analisi non può prescindere dai dati. Per cui stiamo veramente facendo un'operazione di censimento e nel frattempo, in collaborazione con i dipartimenti, cominciare a dare delle soluzioni sul territorio. Per esempio, anche in termini di auspicio, sapete del nuovo direttore generale dell'ARIC, noi ci auspichiamo veramente che sia filtrato attraverso una decisione di competenza e all'insegna del merito, perché veramente ne abbiamo bisogno, soprattutto col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sappiamo che il decreto semplificazioni ha parecchie questioni già al vaglio della dottrina, quindi quando è così è necessario che chi si occupa di appalti pubblici sia veramente competente, che poi è un pilastro di meritocrazia Italia. Sui temi strettamente regionali, come si pone meritocrazia Italia? Intanto, quali sono i temi maggiormente interessanti in cui meritocrazia Italia vuole intervenire, vuole portare la sua voce? Allora, intanto io sull'Abruzzo noi ci stiamo occupando della Via Verde, ma come ripetevo, il processo è questo. Prima la raccolta dei dati, poi il confronto con le comunità, ovviamente anche con l'aggregazione di competenze, perché di competenze ce ne vogliono veramente tante, per non dire, passatemi il termine, stupidaggini e ripetersi con neologismi che poi non servono. Serve risolvere le questioni. Quindi questa è una questione. Abbiamo fatto un gruppo sulla Film Commission, abbiamo fatto un gruppo anche sul problema idrico abruzzese. Ci muoviamo attraverso le mozioni, in attuazione delle mozioni. Nella mozione dello scorso anno abbiamo presentato la necessità di valorizzare il prodotto abruzzese. Quindi abbiamo intervistato, perché poi c'è un'organizzazione che fa il giro dei territori, che è tempo, che è impegno, alla scoperta di realtà veramente eccellenti abruzzesi che sanno coniugare l'artigianato, per esempio, quindi la tradizione con l'innovazione tecnologica e il rispetto dell'ambiente. Sono tantissimi. Quindi metterli in rete con 14 milioni di persone che ci ascoltano, offrire la nostra vetrina, è veramente importante perché possono diventare delle buone pratiche, per esempio. Capo Gabinetto di Meritocrazia Italia, l'Avvocato Paolo Patrizio, lei è consigliere di Presidenza e cura la parte istituzionale di questo movimento. Lei è un referente abruzzese, tutto abruzzese di questo movimento. Sì, assolutamente. Io sono oltretutto proprio locale, nel senso che sono di Francavilla al mare e mi occupo, come lei ha detto, del curare le relazioni istituzionali di Meritocrazia Italia con i vertici nazionali e anche locali quando serve. Ovviamente Meritocrazia è un'associazione che è cresciuta notevolmente e quindi è necessario essere un'interlocuzione diretta con le istituzioni per presentare tutte quelle che sono le nostre attività, le nostre proposte di legge, le nostre proposte di riforma e quindi cercare di fare una sorta di fisarmonica tra la base e il vertice per presentare quelle che possono essere iniziative e il nostro supporto come cittadinanza attiva. Ecco, da parte della parte politica, anche abruzzese, come viene accolta l'ideologia del movimento Meritocrazia Italia? Allora, devo dire che viene accolta molto bene perché Meritocrazia è un'associazione e quindi non sposa una linea ideologica di base, ma sostanzialmente cerca di spostare il problema dalla diversificazione politica rispetto al merito della vicenda. Oggi troppo poco in Italia si parla di quelle che sono le questioni sostanziali e invece si è in una perante battaglia legata ai colori di appartenenza, però alla fine non si vanno a risolvere quelli che sono i problemi di fondo. Invece noi crediamo che le differenze siano una ricchezza e che la competenza possa fungere da collante e quindi è bene ragionare con tutti perché alla fine le soluzioni arrivano se ognuno riesce a dare un proprio contributo spassionato rispetto a determinate tematiche a vantaggio della collettività e dai cittadini in particolare. Noi siamo un'espressione di cittadinanza attiva e creiamo fortemente in questa funzione che ci riconoscono in molti e quindi abbiamo davvero una facilità di dialogo con tutti perché quello che va avanti è il valore delle idee piuttosto che chi è il portatore poi di fatto.